Cristiano Malgioglio smentisce le insinuazioni su una sua presunta relazione con Rossano Rubicondi. Fra noi c'è soltanto un'amicizia, ha spiegato Malgioglio in un'intervista rilasciata a settimana leggente. A lui piacciono le bionde, io preferisco gli uomini come Keanu Reeves. Il cantante ha confidato alla rivista di conoscere Rubicondi da 15 anni. Ci siamo visti qualche volta a Roma, ha raccontato e siamo diventati amici. Poi lui ha conosciuto Ivana Trump, si sono fidanzati e sposati. Ma Ivana l'avrei sposato anch'io, senza sesso però. Malgioglio ha poi svelato le sue preferenze in fatto di partner. Io, per uno come Keanu Reeves, sarei disposto a chiudere la carriera e a fare la sua tata. E l'unica donna con la quale farei l'amore è Sharon Stone. Ma sono fidanzato da 4 anni con un surfista americano che si chiama Joel. Inoltre, Malgioglio ha rivelato che sta scrivendo canzoni per Rubicondi. Rossano vorrebbe cantare Frank Sinatra, ma io per lui penso alla disco music. È amato dalle ragazzine, mica può cantare Stranger in the Night. A me invece piacerebbe lavorare con Almodovar, che mi voleva nella maleducazione. Anche se mi farebbe fare la Francia.